Musica Buongiorno a tutti i lettori del Diario Montanaro, siamo in piazza del Galganis, qui c'è il complesso delle Clarisse abbiamo ricevuto diverse, oramai sono mesi che riceviamo segnalazioni da parte dei nostri lettori riguardanti la biblioteca comunale l'ultima che abbiamo ricevuto con la rubrica scrivì al sindaco è di Biagio Totaro che ha chiesto ovviamente la situazione riguardante la biblioteca comunale noi siamo venuti qui per farvi vedere innanzitutto quello che è lo stato dei lavori all'interno della biblioteca come potete vedere è una struttura molto molto carina che oramai da parecchi anni che in queste condizioni adesso è tutto in celofanato perché stanno preparando per dei lavori di adeguamento che effettueranno non sappiamo quando lo chiederò ma al sindaco dopo questa è la sala lettura della biblioteca comunale ora siamo con il sindaco e volevamo innanzitutto affrontare la questione legata alla biblioteca comunale un minuto giusto per leggere la lettera che abbiamo ricevuto da un nostro lettore Biagio Totaro alla costesa attenzione del sindaco di Montesantaggio vorrei conoscere l'attuale situazione della biblioteca della nostra cittadina perché non è stata ancora riaperta dopo ormai molti anni dalla chiusura della vecchia sede e trasferimento della nuova quali sono i motivi che ne impediscono effettivamente la sua completa e disponibile riapertura al pubblico se riaprirà anche una data indicativa pur che riapra quali sono i progetti o comunque i piani comunali predisposti o da predisporre eventualmente per rendere efficiente e soprattutto fruibile tale luogo da parte di studenti e cittadini amanti della lettura a modernamente e adeguamento del patrimonio librario ampliamento, possibilità di uso di una rete internet comunale in loco integrazione della nostra biblioteca nel sistema delle biblioteche della provincia ed oltre io da studente quasi al termine fortunatamente ho molto avvertito una tale mancanza nella nostra cittadina una mancanza che molte volte è pesata essendo stato quasi sempre obbligato in sede universitaria a studiare in questi luoghi in attesa di cortese risposta noi siamo stati in biblioteca abbiamo fatto un po' le riprese abbiamo visto che anche tra volte tutto è inciopanato si intanto ringrazio il cittadino Viaggio per la sensibilità verso il tema della lettura e della biblioteca di quanto altro... è chiaro che la priorità è aprire la biblioteca perché poi tutte le altre cose che vengono citate lì sono conseguenza dell'apertura la situazione era ingarbugliata fino a qualche mese fa quando dicevo con l'ingegner trotto abbiamo deciso di prendere di petto la situazione quindi già da ottobre a novembre credo l'involt iniziare a stare per l'intorno a ottobre di prendere questa situazione e di portarla a terra e quindi c'erano da fare ancora alcuni lavori perchè era il punto principale avere il nulla osta indici per fuoco e quindi ci siamo resi con quando scopriamo come si dice le carte che l'impianto elettrico era tutto fuori norma poi l'ho fatto dieci anni fa o undici anni fa non mi ricordo quanto che anche le caldari erano tutto ormai fuori uso e quindi da un preventivo che ci aspettavamo più basso di lavori da fare al di là delle somme da investire ma proprio come lavori da fare ci siamo resi conto che se vogliamo aprire e non avere sorpreso durante l'esercizio guardia la corrente perchè c'erano dei fili proprio piccolissimi appoggiati su altri fili insomma si rischiava ogni giorno il black out e quindi se sono state guardate le caldaie le caldaie, l'impianto elettrico abbiamo fatto l'impianto di relazione dei fumi quindi una serie di aiutamenti tecnici siamo dal punto che praticamente basta se non ci sono altre sorprese diciamo l'impregnatore delle travi di legno con una vernice speciale perchè adesso anche le norme diciamo sono più restrittive rispetto a qualche anno fa e quindi stiamo voglio usare il termine di contrattare con i vigili del fuoco verso i quali ormai le carte che avevano portato stanno già portate sul tipo di vernice da usare perchè anche loro a Foggia non sono sicuri quindi anche loro si informano su Roma dicono a noi però credo che stiamo arrivando alla conclusione per trovare la vernice perchè anche la vernice deve avere la sua tracciabilità chi la produce, chi la porta qui, chi la usa altrimenti poesiosa si trovano sempre dei problemi per non aprire e quindi c'è la vernice sulle travi di legno nella sala quella dentro perchè non quella sulla diciamo nella sala conferenza dove stanno già la sala di trattura quella dentro quella interna quella interna e poi manca una scala di uscire di sicurezza dalla sala conferenza che deve andare nel chiosco però l'attuale e poi lì c'è l'uscita sull'esterno da quel balcone però quella è una cosa più semplice però per precauzione abbiamo mandato anche loro i progettini di questa scala di uscita alla sovrintendenza il progettino sta già là che l'abbiamo portata e stiamo aspettando il palermo della sovrintendenza questo è lo stato di fatto quindi noi speriamo anche io non voglio dare una data non la voglio nemmeno dire far dire all'ingegnere Trotte però stiamo lavorando proprio sul pezzo per accelerare al massimo diciamo l'ottenimento del palermo di conformità diciamo dei liciti al fuoco e poi della sovrintendenza per questa scala ma entro l'estate ma noi ci speriamo anche entro giugno insomma io per la verità avevo dato un termine all'ingegnere Trotte il quale per carità si sta impegnando a metà maggio non ce la facciamo a metà maggio quindi si mettiamo di qualche settimana però questo è il nostro auspicio il nostro purtroppo l'unico problema quando si deve dare una data molte volte quando ci sono diciamo dei pareri intermedi non si riesce a capire entro quando danno questi pareri e quindi uno può anche dire entro un mese se i pareri poi ti aiutano dopo due mesi vuol dire nel momento in cui si hanno tutti i pareri è naturalmente dipende da noi l'esecuzione dei lavori l'impegno di spesa lì si può dare un termine perché è una questione che dipende da noi i veggi del fuoco già abbiamo portato le carte diciamo da più di 4-5 mesi come queste travi in legno non sono normate cioè nel senso non c'è una normativa specifica che dice che per i soffitti in legno bisogna fare in questo modo anche loro vanno come già aveva ricordato il sindaco Pocanzi vanno anche loro un po' come dire a tendoni perché non c'è una normativa specifica e quindi abbiamo fatto fare il calcolo delle travi adesso abbiamo trovato una specie di apago dove ci dà il consumo dell'enco loro vogliono in base a questi impregnanti che si dà questo dovrebbe garantire una certa resistenza al cuore e non c'è una norma dove uno va là 2 più 2 uguale a 4 e riesce a calcolare devi sempre fare delle approssimazioni e su questo adesso abbiamo finalmente ragione molto molto che siamo stati una diciamo una intesa perché vuole vuole anche il calcolo delle travi quelle più piccoline noi abbiamo portato il calcolo e quindi integrando questa cosa qua diciamo alla luce di questa conversazione mi sorge una domanda non è stato forse un po' imprudente fare questo tipo di trasferimento anni fa è un'idea è un'idea è un'idea adesso giudicare quello fatto dieci anni fa o quindici anni fa non so quando è stato fatto diventa complicato potrei anche dire se forse si potrebbe trovare un'altra soluzione però bisogna lavorare proprio la situazione che uno ha davanti altrimenti riprendiamo discorsi molto vecchi quindi non so perché usare dove porterebbero questi ragionamenti quindi adesso dobbiamo aprire questa sfruttarla nel modo migliore non mi auguro che l'estate sia pienamente in estate sia pienamente diciamo agibile e sfruttabile da chi vuole leggere ma anche per fare attività diverse su cui possiamo anche ragionare benissimo ringraziamo il Senna e l'ingegner Trott per la disponibilità speriamo di aver risolto un po' i dubbi riguardanti la biblioteca ovviamente ci auguriamo più presto di partecipare alla cerimonia di inaugurazione ci vediamo i video grazie